Un commando di 5 uomini sequestra e picchia e derubano coppie di anziani nella casa di Todi. E' questo il titolo d'apertura di questa edizione di Tep Channel News. Buongiorno ai nostri telespettatori, vediamo allora subito il servizio d'apertura di Marcello Migliosi. Il servizio ancora non è pronto, non abbiamo il ritorno video, quindi vi annunciamo che vogliamo aprire le nostre pagine. Cerchiamo di aprire le nostre pagine con questo colpo a Todi, ai danni di due anziani coniugi, il servizio può andare in onda. Il terrore in villa è tornato. Dopo l'assassinio di Luca Rosi a Ramazzano e dopo la mattanza di Cenerenti di Perugia, i rapinatori hanno seminato il terrore a Todi, quartiere Sant'Arcangelo, a ridosso del Tempio della Consolazione. Non siamo in aperta campagna, ma dentro le mura della città. E lì dentro, nella villa dell'imprenditore Fernando Bico, il nome lo fanno i giornalisti della Nazione, entrato in azione un commando di cinque persone, probabilmente dell'est europeo, intorno alle 18.35, incapucciati, uno sicuramente armato, sono entrati all'interno dell'abitazione dove in quel momento c'era solo l'anziana moglie dell'imprenditore che è stata immediatamente legata. I banditi sono riusciti a violare l'impianto di allarme e di videosorveglianza e sono entrati da una finestra, sembra del bagno. Hanno minacciato la donna con una pistola e dopo averla legata ad una serie hanno atteso l'arrivo del marito. Appena l'uomo è entrato in casa, i banditi gli sono saltati addosso. L'hanno picchiato, tanto d'aver avuto poi bisogno delle cure dei medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Ha una lesione ad un occhio, con distacco della retina, dopo che uno dei banditi, probabilmente per farsi rivelare dove custodiva il denaro, l'ha colpito con un pugno. Sembra che i malviventi abbiano portato via soldi e probabilmente armi che l'imprenditore custodiva legalmente in casa. Poi i rapinatori se ne sono andati. Solo attorno alle 21, sembra grazie al rientro di un figlio, la coppia è stata liberata e ha dato l'allarme immediato ai carabinieri. Sul posto le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Todi e gli investigatori del reparto operativo diretto dal colonnello Todini, che nel corso della nottata hanno sentito i coniugi per capire la matrice del colpo. L'indagine è coordinata dal PM di turno, la dottoressa Antonella Ducchini. Marcello Migliosi, Tef Channel News, Todi, Perugia. E ancora cronaca, sono stati ritrovati spaventati, ma in buone condizioni di salute, dagli agenti della forestale due coniugi settantenni di Acqua Sparta, che il lunedì scorso si erano persi nei boschi della zona dopo aver trascorto la giornata alla ricerca di funghi. Nelle prime ore del pomeriggio, resisi conto di non poter più ritrovare la strada del ritorno, tramite il telefono cellulare avevano contattato un familiare che aveva poi dato l'allarme alla guardia forestale. I due coniugi sono stati ritrovati ormai nel buio, impauriti e infreddoliti, su un fianco scosceso della montagna, sovrastante il fosso di Firenzuola, e sono stati sottoposti ai controlli dei sanitari del 118, che erano stati allertati per precauzione. La Guardia di Finanza di Città di Castello ha sequestrato un materiale contraffatto durante i controlli compiuti alla Fiera di San Florido, appunto nel capoloco Tifernate. Vediamo il servizio di Marcello Migliosi. Oltre 200 prodotti con marchio falso per un valore commerciale di circa 10.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del corso di controlli svolti presso le fiere di San Florido a Città di Castello, in provincia di Perugia. Due extracomunitari sono stati denunciati. In particolare, le Fiamme Gialle hanno svolto interventi con il duplice scopo di scoraggiare i venditori abusivi di prodotti di abbigliamento con marchi contraffatti e di incrementare i controlli nei confronti degli operatori commerciali e ambulanti tenuti ad emettere scontrini e ricevute fiscali. Per le vie del centro cittadino sono stati sorpresi i diversi venditori, soprattutto extracomunitari, che avevano allestito punti vendita che funzionavano per pochi minuti, giusto il tempo necessario per esporre e vendere alcuni prodotti, spostandosi poi velocemente in una diversa area della fiera. Per eludere i controlli, gli stessi utilizzavano telefoni cellulari con i quali segnalavano la presenza delle forze di polizia. Al termine delle verifiche sono stati 210 prodotti sequestrati, tra i quali capi di abbigliamento giubbini, felpe, maglioni, borse, scarpe e accessori con noti marchi quali Converse, Moncler, Louis Vuitton ed altri. I denunciati entrambi africani dovranno rispondere di commercio di prodotti con marchi contraffatti e di ricettazione. Parallelamente i controlli svolti in materia di rilascio scontrini e ricevuti fiscali hanno permesso di constatare irregolarità nel 60% dei casi. Ed ora ci spostiamo alla clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria delle Misericordia di Perugia, dove oggi è stato presentato il progetto 50 computer per il Santa Maria delle Misericordia. Ce ne parla Elena Ballarani. Coniugare le cure mediche con momenti ludici è la metodologia più efficace nelle cliniche pediatriche. Abbracciando questa idea, la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupra Montana del gruppo Veneto Banca ha donato questa mattina 50 computer didattici diversi per adattarsi ai gusti dei maschietti o delle femminucce e tre personal computer veri e propri alla struttura complessa di pediatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Lo scopo è molto semplice, quello di essere più vicini possibile al territorio. In questo caso parliamo di un ospedale pediatrico e quindi che ha in cura bambini, famiglie, svolge un'attività sul territorio molto importante. Da parte nostra lo scopo è quello di regalare questa mattina un piccolo sorriso a questi piccoli pazienti. La struttura complessa di pediatria del Santa Maria della Misericordia di Perugia si trova al secondo piano del blocco H. 22 posti letto e un ambiente piacevole e colorato per i bambini. La consegna dei computer è avvenuta nell'area giochi, particolarmente spaziosa e ricca di tutto quanto può far trascorrere ai piccoli pazienti sani momenti di svago, in linea con la ormai assodata da anni nuova metodologia di cura pediatrica. Questa è un'acquisizione già fatta in direi 30 anni. Una volta i bambini per visitarli si diceva infermiera me lo tenga, era il modo per non visitarli. Adesso invece bisogna ricreare un ambiente assolutamente tranquillo e normale per il bambino, quindi deve essere per esempio visitato sempre vicino alla madre o a un familiare, sempre in modo delicato senza forzare una posizione in modo che sia non costretto. Adesso è una cosa acquisita e normale, che il bambino sia nella sua condizione ideale per tutto. Quindi il gioco è sicuramente la cosa forse più importante dopo la famiglia, per cui tutto quello che si fa in questo senso ben venga. Elena Ballarani, Taf Channel News, Perugia. La ricorrenza annuale della Virgo Fidelis, la patrona dell'arma dei carabinieri, si associa all'anniversario quest'anno il settantunesimo della battaglia di Kulkaver nella Seconda Guerra Mondiale e la giornata dell'orfano a favore dei figli dei militari deceduti in servizio. A Perugia la cerimonia si è svolta nell'abbazia di San Pietro, alla presenza delle massime autorità civili e militari della regione. Moltissimi anche i carabinieri presenti al rito insieme alle loro famiglie. L'arcivesco di Perugia, Monsignor Gualtiero Bassetti, ha insistito sulla preziosa funzione sociale svolta dagli uomini e dalle donne indivisa, a tutela della sicurezza di tutti anche a rischio della propria vita. Un ruolo fortemente apprezzato, come ha sottolineato il celebrante. Vi diciamo che la nostra gente, anche quella più umile, perché il sostrato migliore della nostra popolazione è fatto ancora di umile gente, questa gente vi vuole bene e vi apprezza per quello che è fatto. Perciò io a nome della Chiesa, ma anche di tutto il popolo, voglio incoraggiarvi a perseverare nella vostra opera. Lo so che abbiamo di fronte a noi, e lo dico anche sul piano religioso, delle sfide che ci sembrano veramente più grandi di quelle che sono le nostre possibilità. Ma da dove attingerò il coraggio, diceva il Salmo. Il coraggio viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. In apertura della pagina economica parliamo di reti di impresa. Su questo tema un convegno si è svolto a Perugia, organizzato da Unicredit e dalla Camera di commercio di Perugia. Vediamo nel 2009 per facilitare le aggregazioni fra le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento dei contratti di rete ha suscitato grande interesse per le opportunità di business connesse e per i vantaggi fiscali e creditizi che ne derivano. Di questa opportunità si è discusso nel corso del workshop molto affollato svoltosi presso la sala conferenze della Camera di commercio di Perugia, parte dell'evento insieme ad Unicredit. Lo strumento della rete si è rivelato congeniale alle imprese italiane e caratterizzata una forte spinta all'autonomia dei singoli imprenditori che nel contratto di rete hanno trovato lo strumento per instaurare fra loro collaborazioni durature senza perdere l'individualità organizzativa e decisionale. Il numero all'interesse è alto ma l'attività deve ancora sostanzialmente partire e i contatti di rete finora sono 12 per un totale di 86 imprese coinvolte. La loro provenienza è per il 42% dal settore delle costruzioni, per il 39% dalla manifattura e per il 17% dai servizi. In Italia i contratti di rete sono complessivamente 412 per 2140 imprese coinvolte. Proprio nel saper conciliare la collaborazione fra imprenditori salvaguardando nel contempo la reciproca autonomia sta l'elemento che ha fatto del contratto di rete un mezzo su cui si sta concentrando l'attenzione degli operatori di impresa non solo nazionali ma anche degli altri paesi europei che guardano a tale contratto come una di quelle peculiarità tutta italiana da studiare ed esportare. Alla felice intuizione del legislatore nel 2009 hanno fatto seguito comunque nel corso del 2010 ben due riscritture della disciplina finalizzate a meglio definirne i contorni operativi. E per approfondire meglio le potenzialità e le opportunità offerte dal rete di impresa sentiamo l'opinione di Roberta Datteri che è presidente dell'arte di impresa Umbria a Reda. Intanto noi ci siamo costituiti come rete formalmente solo di recente a giugno però collaboriamo e abbiamo fatto dei progetti insieme attraverso delle forme di associazione temporanea già da almeno tre anni. Quindi ci siamo studiati, ci siamo collaudati e dopodiché abbiamo deciso di approdare ad una formula più complessa. Abbiamo portato avanti dei progetti importanti soprattutto all'estero perché questa era l'esigenza primaria per le aziende. Tutte le aziende della rete Umbria a Reda, siamo 26, siamo tutte aziende appartenenti alla piccola e microimpresa, prevalentemente anche del settore artigiano, quindi proprio il tessuto economico rappresentativo della nostra regione. Le aziende della rete appartengono tutte al settore dell'arredo casa e quindi abbiamo scoperto di avere in mano degli artigiani, delle professionalità, delle eccellenze che potevamo esportare in tanti paesi del mondo. In virtù delle esperienze di alcuni di noi che hanno cominciato da pionieri molti anni fa abbiamo condiviso un sistema, un database, un sistema di informazioni, di uno scambio, generosamente è stato messo al servizio di tutti quello che era l'esperienza maturata e abbiamo cominciato a portare avanti esperienze all'estero di gruppo, presentandoci proprio come sistema Umbria a Reda, sistema casa. E passiamo alla pagina finanziaria. Oggi giornata all'insegna della volatilità sui mercati finanziari. Intanto lo spread si appesantisce, mentre l'euro è sceso poco di sotto di quota 1,28 sul dollaro. Vediamo subito il Fuzz e Mib di Milano, oggi a più 0,28%. Passiamo all'Europa con il DAX di Francoforte più 0,06, l'FT di Londra meno 0,09 e il CAC di Parigi più 0,19. Per quanto riguarda le chiusure degli Stati Uniti, ieri il Nasdaq 100 si è fermato a meno 0,05. La piazza asiatica invece, il Nikkei è positivo, l'indice Nikkei infatti ha chiuso alle 7,49 di stamattina con un incremento dello 0,87%. Parliamo della candidatura di Perugia Assisi a Capitale Europea della Cultura 2019. Oggi è stato presentato il direttore culturale e il project manager della Fondazione Perugia Assisi e si è fatto il punto sulle procedure per la candidatura. Sentiamo Valentina Baldoni. A circa sette mesi dalla sua costituzione la Fondazione Perugia Assisi, creata per sviluppare la candidatura delle due città come capitali europei della cultura, ha presentato stamattina a Perugia in conferenza stampa un primo aggiornamento del lavoro svolto, proprio oggi che è uscito il bando del MIBAC che definisce requisiti per la candidatura. All'incontro erano presenti il direttore artistico della Fondazione, il critico letterario Arnaldo Colasanti e il project manager Lucio Argano. In questo arco di tempo la Fondazione cosa ha fatto? Si è strutturata, ha cominciato un percorso di coinvolgimento del territorio attraverso ascolto, incontri, richieste in qualche modo di suggestioni o anche semplicemente di indicazioni su quello che deve essere un po' il manifesto, cioè i temi della candidatura. Ha portato avanti la costituzione del gruppo di lavoro. Per contribuire a costruire la candidatura è stato istituito anche un comitato scientifico interno alla Fondazione, tra i componenti il professor Paolo Belardi, Ilaria Borletti Buitoni, presidente FAI, l'imprenditore Brunello Cucinelli, Monsignor Vincenzo Paglia, l'architetto Francesco Scoppola e l'attore Filippo Timi. Il club dei sostenitori invece è stato pensato per raccogliere personalità di supporto legate all'Umbria. Tra i progetti il rafforzamento dell'offerta culturale, la messa a sistema degli eventi e una maggiore proiezione internazionale. Previsti anche interventi di rigenerazione urbana per migliorare l'attrattività e la qualità del paesaggio cittadino. Valentina Baldoni, Tef Channel News, Perugia. Sabato prossimo 24 novembre alle 21 presso il Teatro Secci di Terni si terrà il secondo e ultimo appuntamento con il progetto dei solisti di Perugia Conservatori Umbri, volto all'inserimento dei migliori allievi del Bricialdi e del Morlacchi nell'organico dell'orchestra perugina. Il programma del concerto che sarà diretto da Fabio Maestri prevede l'esecuzione di una prima parte Umbra con il capriccio sinfonico di Bricialdi, la sinfonia del barbiere di Siviglia di Morlacchi e picopà per tromba solista e orchestra di Carlo Pedini, seguita dalla quarta sinfonia opera 60 in si bebole maggiore di Ludwig van Beethoven. L'ingresso è gratuito. Avremo con il calcio, tra meno di un'ora il Perugia sarà in campo ad Aprilia per un impegno in trasferta in Coppa Italia. Ce ne parla Paola Costantini. Il Perugia 2 sarà il protagonista del turno di Coppa di Lega Pro che oggi pomeriggio i biancorossi disputeranno sul campo dell'Aprilia capolista nel girone B della seconda divisione. Per i griffoni il match di oggi dovrà servire per strappare un sorriso dopo l'ennesima amarezza vissuta in campionato domenica scorsa contro il Frosinone a Renato Curi per lo scellerato pareggio agguantato dagli ospiti sotto di 2 a 0 in finale di match. L'Aprilia non ha nulla più da chiedere alla competizione già fuori dalla Coppa dopo la sconfitta contro il Lecce per 5 a 1. Il tecnico del Perugia Andrea Camplone chiede ai suoi chiunque scenda in campo di non fare figuracce. Dopo la partita di oggi il nuovo allenatore biancorosso avrà tempo per far adattare i giocatori al suo modo di lavorare in virtù dello stop di campionato in programma domenica prossima 25 novembre. Oggi al quinto Ricci Camplone proverà soluzioni alternative con gli uomini della panchina. Spazio dunque tra gli altri a Cacioli, Ciofani, Rantie, Paonesse e Fabigno. Parliamo della Ternana. Non sarà lungo lo stop del centrocampista della Ternana Calcio Carcuro. Infatti domani tornerà ad allenarsi. La buona notizia per la Ternana è che l'infortunio di Carcuro rimediato nel corso del match contro la regina è meno grave del previsto. La risonanza magnetica escluso, lesioni articolari alla spalla destra, evidenziando una semplice lussazione. Il centrocampista dovrebbe tornare ad allenarsi indossando uno speciale tutore. Lo staff medico cercherà di recuperarlo per il prossimo impegno di campionato che vedrà le fere impegnate in casa contro la Virtus Lanciano. Di certo mister Mimmo Toscano dovrà rinunciare a Sinigaglia, fermato dal giudice sportivo per due giornate a Nolè, per lui lo stop di un turno. Naturalmente oltre ai giocatori squalificati resta lunga la lista degli infortunati di lungo corso, per un totale di sette assenze certe e quattro probabili. Sarà particolarmente difficile per Toscano allestire l'undici antilanciano, soprattutto fino a quando non avrà la certezza dei giocatori sui quali contare. Oggi seduta pomeridiana per i Rossoverdi per provare qualche soluzione tattica in vista della gara di sabato prossimo, valida per la sedicesima giornata del girone di andata della Serie B. E veniamo all'Aliomatic Perugia Basket, che questa sera avrebbe dovuto giocare sul parchè dell'Igol Bologna nella undicesima giornata della stagione regolare, ma la squadra di Romagnoli è stata esclusa dal campionato di divisione nazionale A. La società per rimanere nella divisione nazionale A avrebbe dovuto pagare i premi della Federazione Italiana Palacanestro dopo aver riacquisito il marchio Fortitudo, ma così non è stato. Ed è stata esclusa dal campionato, che ora sarà a 18 squadre. L'Aliomatic tornerà in campo domenica 25 novembre al Palasport Evangelisti contro il Re Canati. Benvenuto ad Alessandro Riccini Ricci, il padrone possiamo dire di immaginario, che questa sera apre con squilli di tromba il proprio sipario con tre personaggi tutti da decifrare. Innanzitutto benvenuto Riccini Ricci. Grazie a voi. Vediamo allora qual è il senso di questa edizione, di edizione che già ha fatto parlare molto di sé per il coinvolgimento di personaggi noti, dello spettacolo, della politica, della televisione, che verranno a Perugia in un crogiolo di esperienze, anche di provocazioni diciamo pure, di stimoli tutti da seguire. Ecco, che senso ha immaginario oggi? Tanto diciamo subito che il tema della manifestazione è il giudizio universale, quindi per noi è un po' il festival è l'occasione un po' per raccontare quello che sta succedendo in questi anni, di bene, di buono, ma anche se si vuole usare una parola di trash. Quindi si partirà oggi con un festival che racconterà la televisione, la radio, i new media attraverso alcuni dei protagonisti. Per esempio questa sera al Teatro Pavone, alle 21, tanto per dare, insomma fare alcuni esempi concreti, si incontreranno con il duo Giorgio Lauro e Sabelli Fioretti, noti per la trasmissione radiofonica un giorno da Pecora, si incontreranno Clemente Mastella, europarlamentare, Lori del Santo e Mario Capanna. In collegamento il divino Otelma e quindi ci domandiamo tutti quello che potrà succedere in una serata come questa, sinceramente non riusciamo neanche noi bene ad immaginarlo, sicuramente sarà divertente. Però l'avete inquadrato lo stare insieme di questi personaggi? Sì, raccontiamo un po' l'Italia di questi anni, di questi ultimi vent'anni se vogliamo e che quindi mette insieme star della televisione, politici e politica in un unico contesto e forse magari da questo incontro si capirà qualcosa di più di quello che è successo in questi anni. Ovviamente intersecare perverso, stesso fra televisione e politica che è determinato, fatti noti a tutti. Certo, con alcuni dei protagonisti di questo periodo. Il giudizio universale è anche guardare poi avanti perché questo forse magari è quella che è la fotografia di quello che è stata l'Italia in questi anni e guardare avanti significa anche non solo fare un percorso attraverso la radio che è un mezzo sicuramente sempre contemporaneo e nuovo e quindi il rugito del coniglio per esempio sarà la trasmissione molto amata con i conduttori Dose Presta, sarà proprio presente a Perugia, in diretta da Perugia, farà la propria trasmissione, questo è il venerdì 23, ma ci sono anche alcuni protagonisti della televisione e della radio come Chiambretti. Ecco, parliamo della radio perché c'è un nome, esatto, l'ha appena detto, ripetiamolo perché... Che Piero Chiambretti, conosciuto sicuramente per la televisione ma che in questo momento sta sperimentando la radio e quindi sta lavorando a Radio 2 con una trasmissione che si chiama Chiambretti ore 10 solo per numeri 10. Qua sia una parodia anche delle sue precedenti trasmissioni, no? Solo per numeri 1 e sicuramente lui è un grande mattatore della televisione e adesso sta facendo benissimo il radio e verrà a raccontarci alcuni momenti sublimi di radio e di televisione con un percorso scelto appunto da lui, da Ambra quando si scoprì che conduceva con l'auricolare etero diretta dalla regia di Buon Compagni fino a lezioni fatte da Carmelo Bene in televisione nel laureato che è la trasmissione appunto proprio di Chiambretti e quindi sarà un racconto un po' della televisione con lo stile di appunto dello stesso Chiambretti. Protagonisti poi saranno tanti perché scopriamo anche lati non conosciuti per esempio di Tognazzi Tognazzi, Ugo è stato non solo cuoco e attore ma anche regista e quindi per esempio con Ricchi Tognazzi racconteremo questo lato inedito di Tognazzi. Sì, qualche nome possiamo fare appunto Filippo D'Averio ma mi piacerebbe insistere sugli sgommati perché è un frammento di televisione che sta andando per la maggiore facendo anche il verso a personaggi della scena italiana. Diciamo raccontiamo anche la televisione di oggi e tutti quelli che sono i programmi che in un qualche modo rappresentano un po' il panorama della televisione di oggi. Ad esempio gli sgommati rappresentano un mix tra intrattenimento, quindi divertimento, satira e anche informazione politica. Ci sembrava che fosse un modello abbastanza innovativo e quindi gli attori, i doppiatori, gli autori saranno presenti a Perugia con una selezione di spezzoni, di inediti, di prove, giocheremo anche con loro proprio sul palco facendo le varie imitazioni e quindi sarà sicuramente divertente. Altra cosa che ti vorrei segnalare e anche una cosa che va per la maggiore in questo momento cioè sono i cooking show, cioè Alessandro Borghese, il cuoco di Ale contro tutti o Barbieri che lancerà Masterchef, la trasmissione che esordirà il 13 dicembre su Sky 1 saranno presenti a Perugia e ci daranno delle ricette sul successo di queste trasmissioni in televisione. Riccini Ricci, auguri oggi appunto il battesimo, possiamo dire, del fuoco perché sarà il taglio di oggi quello che determinerà poi gli eventi successivi. pubblico ovviamente coinvolto al massimo anche in queste... Sì, coinvolto in vari modi, peraltro c'è... Dettagli organizzativi da dare a chi volesse partecipare? Allora, lo spazio che è dove bisogna venire per partecipare a tutti gli incontri che sono ingresso gratuito e il Teatro Pavone, tutti i pomeriggi e tutte le sere tranne il Ruggetto del Coniglio che sarà la mattina alle 8 e poi la Rocca Polina dove invece ci saranno incontri, laboratori con studenti sul fare televisione oggi, i nuovi format, il web, il mondo del web e dei new media. Grazie ad Alessandro Riccini Ricci di Immaginario Festival che oggi apre i battenti auguri per questa manifestazione. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a nostri tre attrattatori e l'appuntamento, come vi consueto, alle prossime edizioni. L'Aula della Camera è alle prese con i tre voti di fiducia sulla legge di stabilità chiesti ieri dal Governo. Si comincia alle 11.30 con le dichiarazioni di voto, alle 12.30 la votazione della prima delle tre fiducia, la seconda fiducia è prevista alle 15.30, la terza invece alle 19.40. In programma anche l'illustrazione degli ordini del giorno al testo. Per il via libera definitivo si dovrà attendere domani, quando alle 12.00 si svolgeranno le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento, che saranno trasmesse in diretta TV. Dopo aver parlato di discariche illegali, il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, interviene nelle Commissioni Ambiente e Politiche dell'Unione Europea sulla tutela delle risorse idriche. Clini punterà i riflettori sullo stato del risanamento ambientale nella città di Taranto e sull'emergenza alluvionale che ha colpito diverse aree del Paese. Dopo l'informativa del Governo della settimana scorsa, alle 12.00 la Commissione Ambiente della Camera torna ad occuparsi dell'emergenza alluvionale che ha colpito diverse aree del Paese. Se ne discute con i rappresentanti delle regioni Lazio, Liguria, Toscana, Umbria e Veneto. Intanto nelle aree della Toscana, messe in ginocchio dalla violenta ondata di maltempo, si lavora senza sosta per ripristinare una condizione di normalità ed assicurare la viabilità delle principali arterie. Una buona giornata a tutti e bentrovati all'appuntamento con il Meteo. Per mercoledì 21 novembre, tempo ancora instabile e venti moderati settentrionali sul medio-basso versante Adriatico e su parte del sud. Questo per la residua influenza della depressione mediterranea. Meglio altrove, ma con nebbie o nuvi basse sulla Val Padana. Al nord, tempo nel complesso stabile, senza precipitazioni degne di nota, ma con nuvolosità di tipo basso, ancora diffusa sulla Val Padana. Tra Piemonte e Lombardia, e localmente sull'Emilia, attendiamo nebbie anche dense, nelle ore notturne e al primo mattino. Al centro, nubi ancora compatte tra Abruzzo e Molise e a tratti fin sulle zone interne del Lazio. Su queste zone attendiamo ancora un elevato rischio di pioggia o di rovesci. Schiarite sempre più ampie sul versante tirrenico e in Sardegna, poi sull'Umbria. Venti ancora moderati da nord, con temperature minime in calo, massime in aumento. Al sud, rovesci diffusi lungo la Puglia tra mattina e pomeriggio, ma anche tra la Calabria e la Sicilia tirreniche. Schiarite alternate a temporanei annuvolamenti sul resto del territorio, ma con rischio di pioggia a basso. Temperature senza grandi variazioni, ma ventoso. Un saluto da Andrea Falcinelli, ilmeteo.it Grazie a tutti.